Nel corso delle nostre puntate, questi tre anni di uno mattina, abbiamo cercato veramente di raccontare, di sottolineare l'importanza della prevenzione. La prevenzione arriva veramente dai giorni, tutti i gesti quotidiani che facciamo, proprio per cercare di poter vivere nel miglior modo possibile, sia noi che i nostri familiari. Allora parto proprio da questo, da che cosa? Guardate, la testa e dei prodotti. Perché li abbiamo associati? Perché un gesto che facciamo quotidianamente è proprio quello di lavarci i capelli, lavarci il viso. E allora che associazione c'è? Ecco, attenzione, perché spesso all'interno di prodotti ci sono elementi che non favoriscono proprio e non aiutano il nostro organismo, anzi, sono addirittura, aumentano, velocizzano delle patologie che purtroppo sono fatali per noi, soprattutto per chi poi utilizza proprio a livello quotidiano, ogni giorno. Allora oggi cerchiamo di comprendere, di andare a capire anche, dietro delle etichette, con nomi stranissimi, indecifrabili, anzi illegibili addirittura, che cosa si nasconde. Ci facciamo aiutare da Stefania Labbadessa. Buongiorno, farmacista ed esperta di fitoterapia. Ciao, ben trovato. È così, è vero? Certo che sì, hai detto benissimo. Tante sostanze, a volte riportate in piccolo, con nomi un po' strani, perché devi sapere che le sostanze chimiche nell'Inci, che poi è l'elenco degli ingredienti internazionali che ritroviamo sui nostri cosmetici, sono espressi o in inglese, quindi tutto il chimico è in inglese, mentre tutto ciò che è di origine vegetale è espresso in latino, fa riferimento alla nomenclatura latina. Vediamone alcuni, vediamo alcuni, abbiamo anche, ecco, la scheda, ecco, la grafica ce lo fa vedere, perché quando parliamo anche di parabeni, metilparabene, ecco, che cosa significa? Allora, sono delle sostanze che ci permettono di conservare a lungo i prodotti, che tra l'altro quando parliamo di shampoo teniamo vicino al lavandino, a contatto con l'acqua, con l'umidità, quindi sono sostanze che li fanno conservare a lungo, però è anche vero che per far questo possono avere un impatto sulla nostra salute, ma anche sulla salute dell'ambiente, perché quando noi risciacquiamo i capelli finiscono negli scarichi di casa. È vero, è vero. Allora, potremmo ricreare qualcosa di naturale a casa? Certo che sì. Ed efficace soprattutto poi? Certo che sì, anche perché devi sapere che gli armadietti... Perché mi guardi i capelli? Gli armadietti... No, tu hai, secondo me, confessa, hai risciacquato con l'aceto. Ancora no, ancora ho provato con il miele. Ho fatto, ho distrutto tutto. Lo faccio oggi, allora pane, pane, non buttiamo il pane perché lo possiamo utilizzare, quindi il pane raffermo. Certo che sì, oltre che per una bella panatura in cucina, lo possiamo utilizzare polverizzato finemente nel nostro mixer da cucina e possiamo ridurlo in polvere sottilissima. Noi qui ci siamo portati avanti, vi assimiliamo per... L'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto, quindi lasciamo qui il nostro pangrattato e ci aggiungiamo su acqua. Solo acqua? Sì, quel tanto che basta per ricoprire, vai, per ricoprire il nostro pangrattato. Lo lasciamo lì 30 minuti. Perfetto. Noi ci siamo portati avanti. Brava. E quindi ce lo ritroviamo qui già pronto. Non è una ricetta questa, non è la ricetta per mangiare, questa è la ricetta per avere dei capelli puliti, morbidi, elastici, vai, vediamo, fatelo anche voi. E' rispettosi dell'ambiente. E' rispettosi dell'ambiente. Allora, dopo aver... Quindi, li lasciamo qui 30 minuti. In questa ciotola ci ritroviamo già pronti con il pangrattato che si è di nuovo reidratato. Perfetto. Mi dai una mano? Certo. Aggiungiamo gli altri ingredienti. Allora, metteremo in questa mistura, vai, se tu mescoli, io aggiungo. Ci mettiamo un cucchiaino di bicarbonato che ci aiuta a rendere un'azione detergente più energica nella nostra miscela. Ok, mi raccomando a casa non ne dovete mettere, se lei ne ha detto, Stefania ha detto un cucchiaino, c'era anche la ricetta qui, la vedete, non ne mettete due perché uno dice due è meglio, fa più azione. No, 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 un cucchiaino di bicarbonato è più che sufficiente per lasciarci i capelli più a lungo puliti, tra l'altro. Ma sai perché dico così? Perché è quello che faccio spesso io. Perché dico, vabbè, mezzo, no, vabbè, ci metto un altro pochettino, magari funziona. È sbagliato, però è sbagliato. Atteniamoci alle dosi suggerite. E poi andiamo ad aggiungere mezzo cucchiaino, ma qui chi vuole divertirsi può aggiungerne anche uno, di curcuma. La curcuma ha un'azione purificante sul cuoio capelluto e ci aiuta a contrastare sia i capelli grassi che i capelli con forfora, ma ha un'azione rigenerante, quindi li fortifica. Al tempo stesso ci dà sollievo alle irritazioni del cuoio capelluto, quindi chi soffre di arrossamenti, chi soffre di pruriti, può avere un grande sollievo. Anche quando uno è stressato. Certo che sì. Cioè quando uno inizia a ballare, che è stressato, uno inizia ad avere comunque il cuoio capelluto un po' più rosso, lo potrebbe utilizzare. Certo, assolutamente. Una a casa l'ho preso, eh? Una a casa. Non è personale la cosa. Ma per caso è biondo? Beh, forse no, poi pagare più. Ah, gli occhi azzurri. Ok. Dopodiché lì vedo che c'è pure l'aceto di mele. Ma quello lo utilizziamo per il risciacquo. Intanto dedichiamoci alla testa della nostra signora. Lo applichiamo, questo prodotto, su capelli bagnati, quindi i nostri capelli sono già sciacquati. Quindi già siamo all'interno della doccia, ci siamo lavati. Ci siamo sciacquati i capelli, sui capelli bagnati andiamo ad applicare il nostro prodotto, partendo dalle radici, ci stendiamo verso le punte. Cioè noi facciamo proprio così, quindi? Così. Lo devi utilizzare, sì. Come se fosse... Se per caso, sì, sì. Uno shampoo... Come se fosse uno shampoo, quindi un composto, e lo massaggiamo. Massaggiamolo, beh, bravissimo. E scendiamo verso le punte, così anche le punte vengono tonificate. Quanto tempo poi lo dobbiamo lasciare? Un paio di minuti e possiamo risciacquare. Qui però, attenzione al risciacquo, dobbiamo essere molto accurati, così da eliminare tutti i granellini. È un po' più impegnativo rispetto allo shampoo tradizionale, però... E toglieteli tutti, perché no andrete in giro e ci saranno poi i piccioni che vi vengono in testa. Tutti, quindi neanche un granello. Ok. E alla fine ci prepariamo lì in doccia o sul lavandino un bicchiere contenente due o tre cucchiai di aceto di mele o di aceto di vino bianco. Questo ci permetterà, grazie al pH dell'aceto, di richiudere le squame dei capelli che saranno più lucidi e morbidi. Stefani, perdonami, dopo aver fatto tutto questo... Ho risciacquato con acqua, la testa bella pulita, prima di uscire dalla doccia o di alzare la testa dal lavandino, un bicchiere di acqua tiepida con dentro due o tre cucchiai di aceto di mele o di aceto di vino bianco. E basta? Basta. Lo verso sulla testa e poi tampono. E tampono, non devo risciacquare? No, perché grazie all'aceto rendiamo i capelli più lucidi e più morbidi. Veramente, non puzzo poi d'aceto? No, perché l'aceto di mele e l'aceto di vino assolutamente no. Come dico sempre Stefania, per poter giudicare bisogna in questo caso non lo assaggiamo, ma dobbiamo provare e quindi lo proverò. Oggi proverai. Oggi lo proverò e domani ti dirò allora, ti faccio sapere. Benissimo, fammi sapere, attendo le tue notizie. Fatici sapere anche voi a casa direttamente. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie Stefania, tenteremo, tenteremo. Vabbè.